Con riguardo all'emergenza Covid-19, confermata dai recenti provvedimenti delle autorità pubbliche, l'Odi Export tiene a manifestare anzitutto solidarietà a tutte le imprese ubicate nella zona rossa e più in generale a tutte le imprese esportatrici e non profondamente colpite dai disagi indotti dalla situazione attuale. Quotidianamente riceviamo segnalazioni e richieste dalle nostre aziende, per lo più di piccole e medie dimensioni, che si trovano impossibilitate a rispettare consegne e adempimenti contrattuali, correndo quindi il rischio di subire perdite di commesse, penali e danni economici molto onerosi, tali da mettere a repentaglio la loro stessa sopravvivenza se l'emergenza dovesse prolungarsi anche solo di pochi giorni. Confermiamo che gli uffici del Consorzio restano regolarmente aperti ed operativi e sono contattabili ai consueti recapiti per tutte le necessità di assistenza e di consulenza. Abbiamo attivato tutti i nostri contatti nelle istituzioni a livello locale, regionale e nazionale affinché siano allentate le restrizioni vigenti, pur nel rispetto di ragionevoli protocolli sanitari, al fine di dare modo alle nostre imprese di garantire una sia pur minima continuità alle loro attività. L'Italia è un Paese sicuro e lo conferma il rigore con cui sono stati eseguiti i controlli sul coronavirus, che rappresentano semmai una dimostrazione in più del grado di serietà e professionalità con cui viene affrontata una forma virale che probabilmente altri Paesi hanno preferito ignorare. Tutti i nostri sforzi sono rivolti a fare in modo che la contingenza attuale non comprometta la fiducia nella qualità del lavoro delle nostre imprese e che rimanga intatta la percezione di eccellenza che tradizionalmente è associata al nostro made in Italy sui mercati di tutto il mondo. Constatiamo con orgoglio il grado di dignità con cui le imprese e gli operatori del territorio stanno affrontando la situazione e ribadiamo loro la nostra massima vicinanza.